Questo anno in provincia? Beh, un anno sicuramente molto molto impegnativo. Ho dedicato parecchio tempo a questo impegno istituzionale, dopo il lavoro quasi tutti i pomeriggi venivo qua in provincia e è stato un momento di ascolto. In una prima fase ho ascoltato tutto il personale, tutti i settori e poi ho cominciato a ricevere le associazioni, gli imprenditori, i sindacati e soprattutto i comuni perché la provincia per me l'obiettivo fondamentale è che diventasse la casa dei comuni. In un anno abbiamo incontrato oltre 63 comuni e questo per me è un grande risultato con l'impegno che in futuro incontreremo anche tutti gli altri. E l'altro grosso progetto che mi sta dando grande soddisfazione è stato quello di aver riscontrato a fine maggio l'avanzo di amministrazioni importanti, oltre 24 milioni, di questi 24 milioni ben 12 sono stati investiti per il progetto Comuni Attivi dove abbiamo coinvolto oltre 33 comuni, tra questi 33 ben 31 hanno sottoscritto il protocollo e quindi oltre 12 milioni impegnati entro la fine dell'anno e ne abbiamo impegnati altri 900 mila per altri 7 comuni quindi un altro investimento per progetti sulla sicurezza stradale, sulle piste ciclabili, sulle energie rinnovabili, sulle scuole quindi cose che sono negli obiettivi della provincia che altrimenti non sarebbe riuscito a realizzare quest'anno e che invece abbiamo concordato di farlo fare i comuni. Quindi questa è una bellissima soddisfazione, una cosa che rifarei con tutto il cuore. Qualcosa che non rifarei o mio cruccio? Beh, un cruccio che ho è che mi sono impegnato sin dall'inizio a sostenere gli operatori di questo ente che lavorano con grande impegno e non hanno a volte i riconoscimenti che si aspettano sia dai dirigenti, all'EPO e al personale amministrativo. Ho chiesto di trovare maggiori risorse, non è possibile per i pregressi dalla provincia e soprattutto un altro tema è quello delle assunzioni del personale che anche lì siamo un po' lenti per tante criticità che dovremmo risolvere perché avere maggiori progettisti, maggiore personale all'interno dell'azienda è indispensabile per poter farla crescere e correre ancora come correva un tempo. Cosa non rifarei? Sicuramente, se devo essere sincero, quello più recente che mi viene in mente è che un'operazione che aveva una finalità molto importante, molto valida, è quella del coinvolgimento dei comuni e quindi quell'operazione di votazione con i sistemi informatici online e tutto. Il risultato che ha determinato quell'operazione mi ha dato molto fastidio perché qualcuno ha pensato che dietro ci fosse un'operazione non etica e non corretta da un punto di vista istituzionale quando invece il mio spirito era tutt'altro e quindi non ho fatto concludere una votazione che effettivamente non era regolare quindi quello mi ha fatto male. Potevamo aspettare a uscire con questo progetto ma non lo abbandono perché credo che questo sia uno strumento utile per far partecipare i sindaci alle decisioni che devono prendere insieme al Presidente e insieme ai consiglieri. Un proposito per il 2024? Beh, sono due direi di propositi. Uno, che si riesca a lavorare in modo costruttivo con tutti i consiglieri che non deve esistere un consiglio provinciale in maggioranza e minoranza ma io mi sono sempre proposto come un amministratore civico ma anche un tecnico della politica. Io vorrei portare a amministrare la mia provincia per il bene del mio territorio e dei miei cittadini e quindi lavorare insieme a tutti i consiglieri perché ognuno di loro può portare un suggerimento e delle proposte interessanti per migliorare la gira amministrativa della provincia. E un altro è politico da un punto di vista invece nazionale cioè che dopo l'Assemblea di L'Aquila del 10 di ottobre dove il Presidente della Repubblica è intervenuto ero presente per mia fortuna dove ha dichiarato il ruolo e l'importanza delle province che hanno svolto negli anni e che quindi le province devono riprendere un ruolo fondamentale io auspico che il governo prenda atto questa famosa riforma delle province anche con l'elezione diretta del Presidente ma soprattutto assegnando di nuovo le funzioni che avevano le risorse del personale che avevano e soprattutto le risorse economiche allora sì che la provincia può riprendere quel ruolo strategico per investire nelle scuole quello che noi del resto stiamo facendo oltre 40 milioni quest'anno e sulla viabilità, sulla sicurezza dei ponti, sulle piste ciclabili allora sì che riusciamo ad essere di nuovo un punto di riferimento per lo sviluppo dei territori e dei comuni Beh, in questa occasione direi che il più grosso auspicio è di tanti auguri di un buon Natale a tutte le famiglie, di un felice anno nuovo e auguro a tutti ma a tutti noi tanta pace, tanta pace, tanta pace ne abbiamo tanto bisogno